un passaggio che non aveva a che vedere con le elezioni europee il candidarsi o non candidarsi sul quale punto io lo riferisco io perché qui ero ieri ad intervistare Maria Elena Boschi risponde Macalenda si era candidato a Roma sindaco e poi è diventato assessore cioè non è diventato sindaco ma era stato comunque eletto e si è dimesso e poi all'europea con i nostri voti è stato eletto e poi si è dimesso se lei mi chiede di entrare in una polemica con Maria Elena Boschi mi spiace ma non lo posso fare posso dire che tutte le volte ho detto agli elettori cosa avrei fatto quando mi sono candidato a sindaco ho detto io mi candido a sindaco e non a fare il consigliere comunale e l'ho detto prima quindi se mi eleggete sindaco faccio il sindaco e basta se devo fare il consigliere comunale non lo faccio quando mi sono candidato all'europea ho detto agli elettori guardate io mi candido con un partito che dice mai con i 5 stelle se la mattina dopo aver preso i voti dicendo questo si mette con i 5 stelle è un problema del partito sulla questione più generale dell'etica è vero che c'è una grande differenza di visione e forse è una delle cose che ha portato alla rottura con l'italia viva io penso che un politico quando fa politica io vengo dal mondo delle imprese ero il primo contribuente del governo Gentiloni ma quando fai politica non accetti un euro da nessuno a nessun titolo che sia consentito o meno è chiaro una valutazione personale è solo un... se io parlavo di opportunità che sia consentito o meno quando ti alzi a parlare nel senato della repubblica ti alzi a parlare con i cittadini che sanno che non c'è nessuno a cui devi rendere conto nessuno che ti paga uno stipendio questo ha comportato... io guadagnavo molti più soldi prima che adesso però per me è un onore fare politica ne sono molto felice non è un sacrificio ma se la faccio la faccio in questo modo e la faccio con chi condivide questo modo di farla e non c'è nessuna polemica ognuno faccia quello che vuole sono gli elettori che sono i re e devono giudicare se questo atteggiamento è apprezzabile magari è troppo bacchettone e va bene anche tanto conflitti di interesse in Italia voglio dire hanno fatto la fortuna di molte persone quindi io lo capisco ma io non lo so mi sembra un po' strano che tutti alzi in senato parli e i cittadini sanno che contemporaneamente ti paga l'Arabia Saudita o un imprenditore perché è delicato però è la mia opinione e peraltro l'ho anche già detto che azione non andrà alle urne insieme all'Italia Viva stiamo parlando sempre dell'Europea anche se poi finite nello stesso gruppo ma quello poco scentra ogni paese ha più di una rappresentanza ma guardi noi l'abbiamo detto tante volte noi siamo disponibili se Più Europa lo vuole fare a fare un accordo con Più Europa Carlo Cottarelli ha detto che è disponibile a correre potrebbe essere il frontman di una coalizione tra Più Europa e azione se questa è la strada che Più Europa vuole fare se la strada è mettiamoci tutti insieme facendo finta di niente e mettiamoci tutti insieme raccontando agli elettori che lo facciamo per grandi ragioni ideali ma l'unica paura è quello dello sbarramento la situazione su questa strada non ci sarà e correrà con le sue forze misurandosi con l'elettorato come abbiamo sempre fatto da soli quindi? noi cercheremo di non farlo cercheremo di costruire una coalizione se non ci fossero quelle coalizioni voi vi misurerete da soli quella storia lì guardi è una storia molto dolorosa per me che l'ho guidata alle elezioni credo molto anche un po' disdicevole come immagini che tutti abbiamo contribuito a dare non credo che ci sia nessuna credibilità a ripeterli